Buongiorno e buon mercoledì 20 marzo a tutti. Ormai manca un giorno all'inizio della primavera. Io sono qui a Gerusalemme, la temperatura oscilla dai 22 durante la giornata, durante il giorno, a un 13 o 14, quindi una bella escursione termica. Questa mattina mi sono svegliato con un dubbio. Mi sono arrovellato su un pensiero perché ieri ho letto sulla app di OneFootball una notizia. Anche il Milan sarebbe su Nicolò Zaniolo. E allora mi è venuto un pensiero. Mi sono trasformato in Amleto. Lui diceva essere e si domandava essere o non essere. Io invece sono arrovellato da un altro dubbio ma con una premessa. Innanzitutto il Milan deve riuscire a conquistare un posto in Champions League. Non solo per la musichetta, non solo per la soddisfazione dei tifosi, non solo per una questione di blasone, non solo per una questione di problema economico-finanziario, ma soprattutto perché il Milan diventerebbe, sarebbe ancora un'attrazione fatale per i giocatori che Leonardo Imaldini vorranno andare ad acquisire per rafforzare la squadra, per i grandi giocatori. Il Milan, premettiamo subito, rimane un'attrazione per il suo blasone, per la sua storia, per Milanello, per tutto quello che il Milan rappresenta, per questo museo di casa Milan ricco di coppe. Ma per diventare d'attrazione, ad attrazione, in attrazione fatale, serve arrivare tassativamente in Champions League. E allora torno sul dubbio. Ma per il Milan sarebbe meglio un centrocampista devastante, bravo, ricco di classe, ricco di stile, ricco di temperamento, giocatore bravo a ispirare i compagni, ma anche box to box a puntare a rete come Niccolò Zaniolo. O magari sarebbe preferibile un attaccante, stiamo parlando di illusioni che come tutti sanno sono dolci per loro natura, o un attaccante come Federico Chiesa, anche lui dalla progressione incredibile, dalla freddezza sotto rete, dal carisma, anche vecchio cuore rossonero. Questo è il mio dubbio. Quale giocatore dei due sarebbe meglio, dopo aver letto ieri la notizia, che il Milan sarebbe su anche lui, su Zaniolo, posto che su Federico Chiesa e su Zaniolo ci sarebbe sempre la solita Juventus in prima fila. Ma ecco che io adesso vi do una risposta in questo momento. Secondo me un attaccante dalle qualità di Federico Chiesa, ma anche dal costo di Federico Chiesa, forse in campo internazionale lo si può trovare. Ma un giocatore come Zaniolo, con quelle qualità, così giovane, ma anche Federico Chiesa è giovanissimo, con quelle qualità, secondo me, è difficile da trovare. Quindi, nel dubbio, mi auguro che anche voi mi aiutiate rispondendo, collegandovi col mio canale YouTube e mi diceste anche la vostra impressione o vostra opinione, alla fine forse il fascino di Nicolò Zaniolo e la rarità di un giocatore così mi farebbe propendere proprio per il giocatore oggi della Roma. Una cosa è certa, a costo alto tra Sergei Milinkovic Savic e Nicolò Zaniolo, per i miei gusti, visto, ripeto, il valore alto di tutti e due, quindi si tratterebbe di un sacrificio per tutti e due i giocatori, per le casse del Milan io andrei sempre e sempre e sempre decisamente su Nicolò Zaniolo. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati e buon 20 marzo a tutti.